Ciao Gerry, hai sentito che potenza di motore? Eh sì, una gran bella potenza! E il rombo? No, quello no! Il mio Uversensory ha un motore di 2000 Watt, di potenza e una forza aspirante senza pari, ma è silenziosissimo! Oh no! Io stavo parlando della mia auto nuova! Ah, ho capito! Invece io del mio Uversensory l'aspirapolvere portentoso, anche perché oltre che potente e silenzioso, è dotato di un sistema filtrante ipoleogenico che non lascia passare manco la più piccola particella di polvere. Però, è intelligente Uversensory, perfetto per chi soffre d'allergia! Eh sì, Uversensory ha veramente un'intelligenza superiore, pensa che è anche dotato dell'esclusivo sistema Active Power Sensor, che regola automaticamente la forza aspirante. E con le ruote gommate e quella spazzola lì che puoi prendere tu, si chiama parquet caress, in setole di crema naturale, il parquet non si rovina! Sai che per la meraviglia mi si è seccata la gola! Vieni, vieni! Andiamo, ti offro qualcosa di fresco! Ah già, il tuo nuovo frigorifero, già è... Sì, è sempre Uvers, il massimo è infatti di ottimizzazione di spazi di qualità di conservazione e poi al sistema Frost Free! Niente brina! Un sistema di ventilazione che favorisce la circolazione dell'aria in modo naturale, così nel frigo il cibo resta perfettamente conservato, mentre nel freezer non si forma la brina! C'è più spazio disponibile, la congelazione è più rapida e i consumi diminuiscono! E poi, fino al 30 giugno, Hoover premia la fedeltà! Cioè? Cioè, acquistando un frigorifero riceverai anche la nuovissima Free Jet! La vedi? È l'innovativa scopa batteria! Senza cavo, senza sacco, è potente, è versatile, è facile da riporre, grazie all'esclusiva impugnatura ripiegabile! Hai notato? Free Jet passa davvero dappertutto, ma non passa inosservata! Hoover! Il futuro è già qui!